Bentrovati alla Padova Freddy Village, siamo nel reparto Frutteria, lui è Riccardo, guardate che favola che abbiamo e lui è l'artefice di questa meravigliosa sangria, troverete la sangria davvero in compagnia, facciamo anche la rima Lui e Daniele, Michele, il piccolo fiore, e everybody desinai. Ecco, venite a trovarci nel reparto frutteria, anguri e gelati, ma soprattutto, ecco, state vedendo la meravigliosa frutta frisca. Ma soprattutto, la sangria, il nuovo look, io mi approfito, mi riparto, mi imbocca. La potete bere così in compagnia. la possiamo bere tutti in compagnia e la sfortuna se ne va vigna molto bene a presto ciao